Calcio, Zaccagni Darby. Ansa, Roma, 19 marzo il gol lo dedico a mio figlio, a tutta la mia famiglia e a questo pubblico fantastico. Mi ero promesso che se avessi segnato sarei andato a festeggiare con i tifosi. Lo ha detto Andaz Mattia Zaccagni. Attaccante della Lazio, autore del gol decisivo nel darby di ritorno. Ora guardiamo la classifica con entusiasmo. Quando vinci partite del genere anche con solo un gol di scarto prendi consapevolezza caratteriale. Era una partita tesa, ho cercato di stare più tranquillo possibile, ascoltando mio papà che mi aveva detto di avermi visto nervoso in settimana. Conclude l'esterno bianco celeste, Ansa, virgola.